Come punto principale, punto di forza che ha reso possibile questo evento è l'accoglienza, la capacità di accogliere i cantanti che vengono da tutto il mondo. L'anno scorso erano 15 le nazioni rappresentate, quest'anno stiamo raccogliando le ultime presenze ma siamo intorno a quella cifra lì. E principalmente una giuria che è composta da tecnici, direttori artistici dei quattro teatri della Toscana, direttori d'orchestra, esperti nel settore musicale. Quindi persone che servono ai cantanti e i cantanti servono a loro. Quindi una reciprocità che garantisce in qualche modo una possibilità di inserimento di questi ragazzi nei ruoli primari e secondari dei teatri toscani. Sta vivendo una nuova primavera la lirica o è un genere mai tramontato? Non è mai tramontato, in realtà è stato tenuto meno in considerazione per un tempo troppo lungo. I giovani stanno riscoprendola, stanno riscoprendola non soltanto l'importanza delle capacità vocali, quindi l'interpretazione, ma tutto ciò che gira intorno al mondo della lirica, ovvero la direzione d'orchestra, la scenografia, i costumi, la direzione del regista, ovvero tutte quelle figure che diventano fondamentali per costruire un complesso come quello di un'opera lirica e che può permettere non soltanto nuove professionalità, ma anche sbocchi artistici di altissimo livello. Una macchina complessa, appunto, come ha detto lei, è quella delle produzioni liriche, anche molto costosa, in tempi di risorse sempre più limitate, è un settore che può giocare in perdita o deve riuscire a essere più sostenibile? No, deve essere sostenibile. Il passaggio è che l'estremamente costosa sta diventando, come tutte le cose, una questione di moda. È evidente che il costo di un allestimento di un'opera lirica non può essere quello di uno spettacolo di livello inferiore, ma non è detto che debba avere cifre astronomiche. Si tratta di capire come un complesso come quello può essere realizzato con economicità, con razionalità e con originalità. Credo che molto spesso si ciega la via più facile del sensazionalismo e questa non è la strada giusta per né raggiungere i giovani né per stare in pareggio con i conti.